Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Aeromanager, oggi abbiamo un ospite speciale, abbiamo qui con noi Marco Goli, ciao Goli! Ciao a tutti, ciao a tutti ragazzi, ciao! Avete conosciuto sicuramente Goli da alcuni post che ho messo anche su Facebook e su Instagram, però insomma io e Goli ci conosciamo da parecchio tempo, diciamo veramente, veramente tanto tempo, però volevo lasciare adesso Goli fare una breve introduzione e presentarsi al pubblico di Aeromanager Army, vai pure Goli! Grazie Fran, grazie mille innanzitutto per questa possibilità, per questo spazio al quale ho deciso di partecipare, ho accettato di partecipare molto volentieri, sì come diceva giustamente Fran, io e lui ci conosciamo da tantissimo tempo, eravamo alle elementari insieme, poi l'adolescenza, poi dopo per motivi professionali al termine delle scuole le nostre strade si sono separate, lui ha cominciato a girare il mondo, io ho cominciato a girare l'Italia con la musica, io suono batteria, faccio il musicista, quindi nel mondo professionistico, sportivo e alimentare io non c'entro nulla, quindi come nasce questo incontro tra me e Fran? Che la vita ci ha riportato ad incrociarci un giorno, come va, come stai, chiacchiera, che ti chiacchiero, io sapevo ovviamente, noi ci seguiamo da remoto, lui sa tutto della mia vita musicale, sa tutto della sua vita sportiva, e io ero in questa situazione di fortissimo sovrappeso, ero 103 kg, era il momento in cui, il momento nella mia vita in cui ho avuto il picco massimo, ecco, di quelli che ho mai raggiunto, non avevo mai raggiunto 103 kg. Fran fa dei piani, fa dei piani di allenamento, di anche alimentazione, dà consigli, suggerimenti, allora chiacchierando, lui mi parla di questa cosa del veganesimo, mi racconta di come è passato alla dieta vegana, di come si sente con la dieta vegana, io ero molto incuriosito, perché io ero uno di quelli, che sono sempre stato uno di quelli che sosteneva che era impossibile fare una preparazione sportiva con una dieta vegana, perché quando uno pensa al vegano, dice, cavolo, i vegani non possono mangiare carne, non possono mangiare uova, non possono mangiare pesce, poi in più ha dieta, quindi anche la pasta deve essere ridotta, cioè uno dice, cazzo, mi mangio il broccoletto, la verduglina, è finito, no? E poi siamo emigliani anche, quindi... E poi siamo emigliani, non essere vegani in Emilia, è una bruttissima storia, veramente. Allora, cosa è successo? Che Fran mi ha introdotto a questa cosa, mi ha proposto, mi ha detto, ma dato che tu sei in una situazione di sovrappeso e hai voglia di rimetterti in forma, hai voglia di fare questa documentazione di questo percorso, dove io ti do un piano di allenamenti, ti introduco alla dieta vegana, come fare per avere un'alimentazione equilibrata, giusta, e vediamo come va, insomma, facciamo vedere che cosa succede, facciamo vedere dal punto di vista di una persona comune, quindi un piano sportivo e alimentare, correggimi Franz, sbaglio, che sia, diciamo, alla portata di una persona che vuole nella vita di tutti i giorni, frenetica di oggi, del 2018, tornarsene in forma con il proprio benessere, insomma, il proprio benessere fisico. Io ho accettato e abbiamo cominciato questa avventura, che ad oggi ha portato dei risultati che, devo dire, non mi aspettavo assolutamente, non ci avrei mai scommesso sopra agli inizi. Assolutamente, cioè, è una trasformazione veramente incredibile, cioè, si parla di 5 kg al mese, hai perso 15 kg, vero? Esatto, 15 kg nei primi tre mesi e quello che mi ha stupito è che li ho persi in maniera molto tranquilla, cioè, senza fare alcuna fatica. Mangiando un sacco, ho mangiato veramente tantissimo cibo. La differenza è che ho mangiato il cibo giusto e, soprattutto, un'altra cosa che mi ha stupito è che ho raggiunto questo risultato senza ricorrere a trucchi, senza abbinare, non so, fiale, polveri, pastiglie strani, integratori strani. Sente integrazione. Esatto, tutto semplicemente buon cibo. Guarda, confesso, l'unico alimento che ho usato extra al cibo naturale è stata una capsula di proteine vegane che ho visto per caso da Decathlon, le ho provate, erano sapore di cacao, mi sono piaciute molto e allora, tuttora, a colazione, le uso come Nesquik. Ne metto, tra l'altro, 20-25 grammi, quindi sto al di sotto della dose di 30 grammi consigliata. Lo uso veramente per imbuonire il latte della mattina. Proteine in polvere, sì. Proteine in polvere. Che poi, comunque, con il tuo lavoro e con i viaggi così torna anche comodo, soprattutto quando, insomma, sei in trasferta, magari negli alberghi non puoi portarti dietro il tuo tofu o i tuoi alimenti e quindi fai con quelli, ma va benissimo, ovviamente. Esatto, esatto, esatto. E invece, cioè, la gente pensa, ah, ok, ha perso 15 chili in tre mesi, quindi deve aver corso come Forrest Gump, fatto delle maratone, sudato con le tute di plastica e le pancere. In realtà, no, racconta come ti sei allenato, perché, insomma, da quel che mi ricordo non vai a una John Reed 5 stelle o roba del genere. Esatto, esatto. No, infatti, la cosa anche interessante è che quando io e Fran abbiamo parlato di questa cosa, abbiamo deciso di farla, abbiamo cercato di farla anche in maniera più estrema di quella che è la routine comune. Quindi abbiamo deciso di impostare un allenamento che non fosse in palestra, proprio per dare dimostrazione che non solo si potesse fare, ma che lo si potesse fare anche nei propri spazi di casa, comodamente. Fran è stato veramente un figo, perché io gli ho dato due attrezzi, una panca piana e due manubri, e gli ho detto tu mi devi fare un programma di allenamento con una panca piana e due manubri. Trasformami. Esatto. Quindi mi ha dato un programma di allenamenti, sono partito con questo programma di allenamenti, ed erano soltanto esercizi di corpo libero, manubri e panca piana, corsa, ho fatto veramente zero corsa. Nei miei video, per chi mi ha seguito o per chi vorrà andare a vedere i video che abbiamo postato su YouTube, che documentano questa trasformazione passo passo, c'è un video che ho girato a Pasqua, dove la mattina, il primo sole primaverile, decido di andare a correre, quella lì è la prima corsa che ho fatto, quindi dopo due mesi e venti giorni. E zero cardio. E zero cardio. Io detesto correre. Questo è sempre stato un mio gap negli allenamenti in palestra. Ho sempre dovuto ricorrere a trucchi strani per farmi andare giù la mezz'ora di tapirulan. Quindi proprio zero cardio. Ho fatto corpo libero, che avevo esercizi di flessioni, di piegamenti addominali, dei crunch e pesistica sulla panca piana. Zero cardio. Un piano settimanale di tre allenamenti, tra l'altro all'inizio Fran mi aveva dato un piano di cinque. Io non riuscivo, quindi me ne ha costruito un altro con tre allenamenti settimanali. E anche da quel punto di vista lì ho avuto, comunque ho vissuto l'allenamento con flessibilità, cioè non sono stato per tre mesi tutte le settimane tre allenamenti. Ho avuto delle settimane dove sono riuscito a farne due, ho avuto un paio di settimane dove sono riuscito a farne uno addirittura, uno soltanto. Quindi nel senso la mia dedizione a questa cosa è stata molto meno straight di quello che si potrebbe pensare. E hai ottenuto comunque un risultato fantastico, assolutamente. E ho ottenuto un bel risultato. Un risultato che è equilibrato soprattutto, senza dover far la fame, che questo è importante, perché quando uno dice la dieta, la dieta subito pensa, oddio, devo soffrire i morsi della fame. Invece non è assolutamente stato così. Anzi, tra l'altro parlavo con un mio amico proprio ieri che mi commentava la foto e gli dicevo che per assurdo da quando sono passato alla dieta vegana, da quando ho tolto più della metà dei cibi che mangiavo prima, quindi ho tolto il pesce, ho tolto le uova, la carne, i latticini. Mi sono accorto che per assurdo mangio il doppio di tipi di cibi adesso rispetto prima, perché comunque dovendo addentrarmi nella dieta vegana e dovendo andare a scoprire tutta una serie di alimenti, oggi scopro che mangio molti più alimenti così con la dieta vegana rispetto a quanti ne mangiavo quando mangiavo la carne, i latticini, le uova, per assurdo. Sì, è una dieta molto più varia perché comunque ti sei dovuto sforzare a trovare ovviamente fonti alimentari diverse, hai scoperto nuovi alimenti, mi ricordo quando mi ha fatto il video insieme che hai scoperto i semi di chia. Esatto, esatto, esatto. No, no, questo è super valido. Poi un'altra cosa che mi dicevi era che ovviamente dopo utilizzando magari anche solo come riferimento, application come MyFitnessPal, ti sei reso conto di pure, di cosa ti sei reso conto. Esatto, esatto, faccio questo sì gigantesco perché Fran mi ha parlato appunto di questa applicazione MyFitnessPal, sono andato a vedere un video dove lui spiega come si usa e ho pensato che metterò magari un videino anch'io di come l'ho utilizzato perché è stato veramente cruciale, perché all'inizio cosa succede? Non essendo abituati a gestire le macros alimentari, avevo il mio fabbisogno di carbo, proteine, grassi e calorie. Avevo un'idea delle calorie però arrivato a sera a livello di quantità di proteine, carboidrati e grassi non sapevo a che punto ero, ero un po' alla cieca. Grazie a MyFitnessPal che invece è un'applicazione che ti dà la possibilità di monitorare anche le macros soltanto delle calorie, sapevo perfettamente come gestire i miei pasti, cioè arrivavo a cena che vedevo, guardavo i dati di MyFitnessPal, vedevo che magari avevo assunto un po' più proteine rispetto ai carboidrati quindi prediligevo un carboidrato piuttosto che una proteina o viceversa, ecco magari avevo mangiato una bowl di riso a pranzo quindi ero andato su quei carboidrati a cena, preferivo piuttosto che un'altra bowl di riso, una tofulette con tofu, fagioli, del seitan insomma. Grande, sì no e poi senza prenderla in modo maniacale perché sai c'è gente anche che poi diventa immersa nell'applicazione, praticamente non può girare senza, questo non è il tuo caso però una cosa che mi dicevi all'inizio che ti ha sconvolto è ti sei reso conto effettivamente e questo è importante, cioè avere un punto di riferimento di quanto male mangiassi prima e quanto mangiassi prima anche in termini di calorie, vero? Veramente perché agli inizi facendo il passaggio graduale ovviamente buttavo dentro, magari sono andato a ridurre piano piano gli alimenti che mangiavo prima quindi quando andavo ad introdurre su MyFitnessPal introducevo tipo i miei 150 grammi di spaghetti e cacchio mi accorgevo di quanto buttavano su le calorie, di quanto buttavo pure magari il cucchiaio di ragù, ci metto solo un cucchiaino oggi, ora metto il cucchiaino, lo introduci su MyFitnessPal, bam, picco di grassi saturi, cacchio. Sì, 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 no, infatti giusto per la consapevolezza è importante infatti. Esatto, quindi questo è stato veramente molto importante perché grazie a questa applicazione, grazie a questo monitoraggio mi sono proprio accorto di quante cose sbagliate ci siano nella routine quotidiana. Nelle abitudini. Nelle abitudini. Esatto. E questa è un'altra cosa che ho riscontrato, che mi aveva detto Frane, che io ho riscontrato è anche, non è solo una questione di prova costume, cioè la panza e il girovita, è proprio una questione dell'impatto che ha sulla quotidianità dal punto di vista dei riflessi della mente, di quanto si è svegli, di quanto si è stressati, niente, adesso sto per dire una cosa banale ma è una sacrosanta verità, il corpo umano è una macchina e come tutte le macchine, come tutti i motori, se riceve benzina e olio buoni funziona bene, non c'è niente da fare. Assolutamente, assolutamente e tu ne sei la dimostrazione perché comunque ti dicevo che anche a distanza di poche settimane da quando ci siamo visti di persona con l'allenamento lì a casa tua, sei cambiato da così a così e stai cambiando, stai veramente bene, quindi, no vabbè, davvero ci hai messo tantissima forza di volontà, io sono stato semplicemente una guida, ma tu ci hai messo del tuo e soprattutto l'impegno perché sai, molti magari sono curiosi però non ci provano, tu invece hai messo parecchia forza di volontà e stai raccogliendo decisamente i frutti del tuo impegno, quindi davvero complimenti. Come ci dicevamo ieri, la chiave di questa cosa, mi hai ripartita la A, vai pure, vai pure. Come ti dicevo ieri, tu hai girato comunque la chiave nel motore, poi io ci ho messo la buona volontà e tutto quanto, però insomma essere stati stato molto importante, voglio condividere questo pensiero con chi magari pensa di avere davanti una montagna insormontabile, inscalabile nel decidere di affrontare questa cosa, che in realtà scoprirete che è il male dei primi dieci giorni, allora i primi dieci giorni non vi racconto le favole, i primi dieci giorni sono veramente faticosi, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista alimentare perché cambiano tutti i sapori a cui siamo abituati ed essendo ancora poco pratici di come combinare tutti questi alimenti nuovi, dopo cinque, sei, sette giorni che si fanno più o meno gli stessi pasti perché non si ha la conoscenza di come si possono ancora avaliare i sapori, si fa davvero fatica, cioè arrivi a sera e ti dici cacchio, un'altra verdura, un'altra fetta di tofu, che palle, non ce la faccio più, i primi dieci giorni sono così e i primi allenamenti sono devastanti perché comunque si viene da un momento dove non si è abituati a fare sport, si viene da un momento di forte sovrappeso e non si porta a termine neanche una serie di ripetizioni, io mi ricordo il primo allenamento di gambe, il video del terzo allenamento che è il giorno di gambe, fa ridere perché non porto a termine neanche una delle sessioni che mi ha dato Fran, cioè Fran mi dice di questo fai dieci piegamenti e arrivavo a cinque, sei e dicevo cacchio come faccio, cioè disperato, anche perché ti senti poi, cioè l'autostima in quello che stai facendo crolla, quindi i primi dieci giorni sono pesi, dopo poi invece si comincia, il corpo comincia a sgonfiarsi, cominciamo a scoprire i sapori, cominciamo a disabituarci, disintossicarci dai cibi cattivi, da lì in avanti è tutto in discesa, perché si comincia ad avere voglia di mangiare bene, si comincia ad avere meno voglia di tutte quelle schifezze che ci lasciamo alle spalle e il corpo comincia ad abituarsi alle sessioni di allenamento e si comincia a sentire la pompa nei muscoli, la forza nelle gambe, diventa tutto molto più incoraggiante e da lì si bola. Bene, vedremo sicuramente di fare anche altri video, poi ci alleneremo di nuovo insieme perché io comunque tornerò dalle nostre parti sicuramente verso l'estate, quindi per il momento per chi vuole vedere appunto i tuoi video, il tuo percorso, dove ti trova? Allora io ho profilo, mi sono lanciato sui diversi sociali più usati, quindi su YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, mi trovate ovunque con Marco Goli, cercandomi come Marco Goli, ho il mio canale appunto anche quello Marco Goli dove sto mettendo tutti video per documentare questo percorso, questa body transformation e ho il mio sito web marcogoli.it che l'ho aperto da un paio di giorni dove appunto anche lì stiamo raccogliendo insieme a Fran, stiamo diciamo facendo un po' di ordine su tutta questa storia che è partita così in maniera un po' for fun, disillusa e invece sto scoprendo insieme a Fran tutta una serie di nozioni che sono nozioni che sono veramente eccezionali per migliorare la propria vita quotidiana, quindi insieme vogliamo, ho deciso di fare questo portale per fare una documentazione dove chi ha voglia di usufruire di questa fonte del benessere che abbiamo sotto al naso nella vita di tutti i giorni, lo può fare, può venire a raccogliere qualche informazione, qualche suggerimento semplice perché io lo faccio veramente con molta umiltà, sono semplicemente un uomo comune come tanti che ha voluto rimettersi in forma, ha ottenuto dei risultati e riporto come ho fatto ad ottenere questi risultati, poi chi vuol fare professionismo insomma lascio agli esperti il mestiere di guidare, chi vuol fare professionismo ecco. Certo, alla grandissima Goli, allora ci becchiamo sicuramente nelle prossime settimane o qui a Berlino, assolutamente, l'hai promesso, è l'ultima volta che abbiamo fatto il video insieme, quindi io ti aspetto così ti faccio fare anche l'esperienza berlinese in palestra in un parco. Bellissimo, andiamo adesso e prendiamo fuori una panca e due manubri. Lo facciamo perché sei abituato così, quindi prendiamo i manubri e la panca e andiamo in un parco. Esatto, bellissimo. E poi ci diamo appuntamento anche per prossime video chiacchierate qui su YouTube. Grazie ancora per il momento. Grazie a te per lo spazio, ciao Fran. Grazie, grazie mille. Ciao ragazzi, ciao. Grazie a te.